Sono Fabrizio Alessi, direttore della Tennis Training School di La Candida di Foligno. La nostra scuola nell'anno 2016-2017 è stata premiata come migliore scuola d'Italia dalla Federazione Italiana Tennis. È uno dei quattro centri per l'allenamento dei migliori under-16 d'Italia. Il motto della nostra scuola è dal principiante al professionista. Abbiamo circa 200 ragazzi che si allenano da noi, da bambini di 4 anni, fino ad arrivare all'allenamento di professionisti che girano il mondo insieme ai nostri maestri anche nei tornei più importanti del mondo tipo Wimbledon, Flash in Miro e Roland Garros. Sono Mauro Arcangeli, responsabile del progetto Tennis in Carrozzina qui alla Tennis Training a Villa Candida. L'idea è partita l'anno scorso da un corso di specializzazione che noi abbiamo fatto diventando istruttori e maestri di questo sport. Per adesso facciamo giocare circa 8 o 9 ragazzi con svariate problematiche ma con ottimo successo. Il progetto continuerà tutto l'inverno cercando di portare due volte la settimana tutti coloro che vogliono provare questa attività a giocare qui da noi. Ringrazio a nome mio e a nome della Tennis Training la Fondazione Cassa di Risparmio di Foligno per il contributo che ha dato a noi e noi ovviamente lo rigiriamo a questi ragazzi. Grazie